Non posso vedere. No mamma mia, no, 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 no mamma mia. Attimi di panico e terrore questa mattina a San Giacomo quando una bambina, presumibilmente di età inferiore ai 6 anni, stava camminando sul cornicione di uno stabile. No mamma mia, no, 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 no. I passanti appena hanno visto la piccola camminare sulla parte esterna della casa sono rimasti virtificati pregando che non si avvicinasse verso il vuoto. A quanto pare sembrerebbe che la bambina sia uscita dalla finestra e abbia iniziato a guardarsi attorno facendo qualche passo e non capendo cosa stava succedendo. Fino a quando il padre accortosi di quanto stava accadendo si è precipitato fuori dalla finestra ed è riuscito a ferrarla in tempo. Grazie a tutti.